Provocano, vogliono sperimentare e poi certo che ci cadi Non ucciderei nessuno, tanto prima o poi queste cose le faranno Ma in fondo che male farei Oggigiorno i bambini sanno tutto sul sesso, più degli adulti Però a volte penso che ci sia qualcosa di sbagliato in me, a volte mi sento in colpa Fermati, non lasciare che i tuoi pensieri si trasformino in azione